signore e signori ben ritrovati nella serie di sopravvivenza eccoci qui ebbene sì ebbene sì come avete visto dal titolo è arrivato il momento è arrivato il momento perché ragazzi non potevo sempre andare a scavare per procurarmi del maledettissimo ferro assolutamente no è arrivato il momento ho cercato sempre di rimandare questo appuntamento con la famosa farm di ferro ma è arrivato sì il momento ragazzi è arrivato il momento dammi l'ultimo coso l'ultimo che lo metto e me ne vado dai dai ok thank you dicevo sì perché va fatto va fatto comunque tra un episodio e l'altro ho fatto qualcosina giusto per non tenere la serie ferma perché comunque sono stato appunto fermo un po' di tempo con i video però con le costruzioni no infatti qua dietro ho fatto una cosina una specie di tettoia zona di non so costruzione delle barche ovviamente piccola perché questa barchetta ha due alberi abbastanza alti e secondo me supererebbero anche l'altezza di questa zona quindi facciamo che questo vascello viene da lontano e non è costruito qui e facciamo che questo è appunto il cantiere di questa zona di questo villaggio e ci sta non volevo farlo troppo grande poi mi sono tenuto sempre con questi pontili diciamo così vedete sono molto simili infatti anche l'interno fatto sì con queste strutture così è molto simile a questi pontili che stanno di qui quindi a livello di architettura ci troviamo ci troviamo abbastanza bene poi ho messo delle barche qua su per dare l'idea appunto che questo è un cantiere dove appunto si costruisce si fanno barche varie la cosa bella è questa parte qui come vedete c'è terra che poi si mischia con il pontile che sta solamente in questo punto perché non volevo farlo continuare appunto sulla terra ferma non avrebbe avuto senso quindi ci sta ci sta molto bene guardate da qui come sfizioso comunque dicevo tra un episodio dell'altro ho fatto appunto alcune cose tra queste come abbiamo detto il cantiere ma mi sono messo anche a modificare la farm di villagers perché quella farm non so se molti di voi la conoscono perché è una farm che ho fatto proprio nei primissimi episodi quindi è molto semplice è vecchia pure a livello strutturale quindi l'ho voluta cambiare ho voluto fare la tipica farm che si sta portando ultimamente molto ristretta molto compatta piccolina e devo dire che funziona da un sacco di villagers infatti ho lasciato anche il player lì fermo a far accoppiare villagers appunto come vedete qui è cambiato un po il tutto è qui che stava la struttura di prima dove c'erano i villagers come vedete è anche molto ristretta sì ci sono dei particolari tipo un portale qui che useremo useremo per portare dei villagers appunto nella farm di ferro come vedete la la struttura la conoscete sicuramente è semplicissima in cosa consiste dovete buttare il panino tanti panini no il panino tanti panini a questi villagers qui che si accoppiano e i piccolini cadono di lato per poi accoppiarsi una volta cresciuti anche qui sotto e guardate che casino che si è creato veramente un bordello di villagers ne ho uccisi pure parecchie per creare questa farm perché da quella che c'era prima qui ad arrivare a questa c'erano molti molti villagers che erano fastidiosi non si volevano spostare quindi li ho uccisi per comodità comunque parliamo della farm di ferro la farm di ferro ecco dobbiamo riviaggiare perché la voglio fare in un punto abbastanza importante un punto che sarà molto molto d'aiuto sto parlando dello spawn chunk non so se voi sapete che cos'è comunque sarebbe il chunk iniziale dove praticamente nasce il tuo player appena apri questo mondo cioè nel senso accendi minecraft crei un mondo nuovo clicchi play start e nasci in quel punto ecco quello è lo spawn chunk perché lo voglio fare lì lo spawn chunk permette di lavorare la farm anche se sei lontano dal punto in che senso sapete bene che il player per far funzionare una farm deve stare vicino appunto la farm ecco lo spawn chunk è l'unico chunk che ci dà la possibilità di farlo caricare anche da lontano e come ben vedete già lo stavo iniziando a costruire è inutile che vi faccio il tutorial perché innanzitutto è abbastanza semplice molto molto semplice ma poi l'hanno fatta un sacco un sacco di loro ragazzi veramente parecchi di loro e quindi mi sono detto sai che c'è di nuovo non facciamo il tutorial e basta c'è al massimo vi metto il link da dove ho preso ecco spunto sì in modo che se volete prendere magari meglio tutte le dimensioni ecco magari vi metto il link in descrizione e poi niente fate appunto questa farm vi dico solamente velocemente in cosa consiste vedete questo blocco di tre per tre ecco questo verrà eliminato perché questa sarà la zona dove i golem moriranno non so se conoscete ma penso di sì l'impostazione di questa farm cosa fa uccide i golem di ferro che nascono grazie ai villagers i villagers una volta che individuano un villaggio queste porte simuleranno il villaggio perché le porte non so per quale motivo vengono viste come case quindi visualizzano appunto tutte queste porte i villagers vedono che sono in una zona sicura e nasce appunto il golem in queste zone dove c'è l'acqua dove poi verrà trasportato cadrà qui al centro e morirà semplicemente e ci darà tutto il ferro perché il golem droppa sempre un po di ferro tipo cinque pezzi di ferro una cosa del genere quindi ci sarà molto molto d'aiuto e tra l'altro appunto la farm potrà funzionare anche quando non sono questo punto pure tipo mentre sto costruendo ad edoras tranquillamente quindi non ci sono problemi funzionerà non lo so spero di sì che comunque questa è una farm abbastanza vecchia devo essere sincero però dicono che continua a funzionare tranquillamente anche nella 1.12 spero funzionerà anche nella 1.13 fatto sta che se magari non funzionasse dato che l'ho fatta tutta di legno attiverò il fire tick e daremo fuoco a questa farm per poi farne un'altra nuova che ci darà la possibilità sempre di avere del ferro poi ovviamente disattiverò sempre il fire tick perché sennò andrebbero a fuoco tutte le case che stanno ad edoras e anche a quell'altro villaggio e niente ragazzi io continuo a costruire ce la farò spero di sì ma penso proprio di nuovo penso che dovrò andare a prendere un altro po di legno c'è qui dello spruce da queste parti spero di sì oddio non ci ho fatto caso se non sbaglio sta sta di là da quelle parti comunque vabbè finisco di fare questa farm e poi vi spiego come funziona ah tra l'altro qui al centro devo mettere anche un portale perché devo portare appunto i villagers i villagers staranno tutti in questi punti qui vedete e ce ne saranno se non sbaglio in tutto 10 tipo due celle da due e altre due celle da 3 3 6 7 8 9 10 sì dovrebbero essere due celle da 2 e altre due celle da 3 in modo che in tutto fanno 10 villagers spero funzionerà ragazzi poi magari vedremo vedremo ok è passato un po di tempo ho messo il portale qua sopra e ho portato anche un bel po di villagers anche perché comunque non potevo annoiarvi portandoli tutti in una clip quindi sono messo con calma adesso vi faccio vedere anche come ho fatto perché comunque dal nether li ho trasportati giustamente perché sarebbe stato un casino nell'overworld e come vedete qui ancora ne devo portare uno perché se non erro devo portare proprio uno solo appunto perché da queste parti tra l'altro si stanno anche accoppiando i tizi il che non so se è buono vabbè nel caso li eliminerò tipo vedete qui ce ne dovevano essere due se non erro e adesso sono tre perché si sono accoppiati ah no questi questi eccoli qui dovevano essere due ma adesso sono tre vabbè non fa niente spero che non influisca sto fatto del numero dei villagers poi vedremo poi vedremo intanto vi faccio vedere nel nether come mi sono mosso perché è stato abbastanza complicato ecco ci sono vari lag non penso sia un problema come vedete ci sono tantissime rail soprattutto le rail quelle powerhead perché sapete che cosa ho fatto ho iniziato a mettere il rail un po da tutte le parti e mi sono accorto che erano finite praticamente tutte completamente mi era finito anche quasi tutto il ferro e non volevo sprecarlo appunto per queste allora che cosa ho fatto mi sono ricordato che comunque c'è un farm che sfrutta un bug ecco lì ci sono ancora dei villagers che tra l'altro come ci sono arrivati i figli ah sì forse attraverso queste strade oh mio dio vabbè rimarranno lì per sempre perché è inutile portarli tanto nella farm di villagers ce ne sono un sacco quindi dove sta questo maledettissimo cast eccolo lo voglio un attimo eliminare per non avere problemi perché c'è un ultimo villagers appunto come vi dicevo prima che devo portare ed eccolo lì eccolo qui vi stavo dicendo sì ho fatto una farm di rail che sfrutta un bug e l'ho inserita qui velocemente non ci vuole molto per farla anzi non ci vuole quasi nulla vi servono semplicemente cinque slime block un pistone appiccicoso e basta semplicemente poi vabbè qui potete benissimo non creare una specie di clock non so nemmeno come definire questa cosa comunque semplicemente adesso andiamo qui dietro che vi faccio vedere qui ci sono due hopper che si guardano vedete hanno tutte e due diciamo l'output che tocca l'altro output e quindi si mandano sempre un blocco adesso è fermo perché tengo la leva attiva però se appunto disattivo questa leva il blocco comincerà ad andare tra un hopper e un altro e tramite questo comparatore che rileva diciamo il blocco all'interno di questo hopper che cosa succede da l'impulso a questo pistone il pistone che cosa fa va avanti indietro perché poi il blocco qui dentro si sposta continuamente quindi il pistone si ritrae si apre si ritrae insomma fa sempre così avanti indietro come vedete ci sono anche delle fornaci perché le fornaci non si possono spostare tramite gli slime block quindi fanno muovere tranquillamente appunto gli slime block perché tipo avessi messo altri blocchi si sarebbe bloccata tutta la farm e quindi niente ho messo le fornaci perché sono facili da craftare come vedete qua sopra ci sono appunto queste rail soprattutto quelle powerhead e quelle normali che cosa succede questo pistone fa andare avanti indietro questi slime block no e si bagga si bagga tutto in cominciano ad uscire una marea di rail che poi vengono raccolte con questi hopper che poi finiscono in questa cesta e guardate quanta roba ho farmato ne ho sprecata pure parecchia per fare questo binario per portare tutti i villagers come vedete qua ce ne sono pure altri questo portale è collegato alla farm che avete visto prima comunque adesso vi faccio vedere come ho traspostato per tutto questo tempo i villagers mi sono mosso diciamo con uno alla volta perché purtroppo li devo seguire altrimenti se sto troppo lontano si fermano sui binari oppure peggio ancora tornano indietro e quindi è un po' un casino ecco ad esempio potrebbero darci fastidio questi tizi qui che a volte spingono anche i villagers e li fanno tornare indietro però per il momento tutto ok dai tutto ok ci siamo ecco adesso è un problema spostare il tizio qui quindi sapete cosa facciamo lo spostiamo con una bella barca perfetto ecco per sicurezza portiamocelo fino a questo punto rompiamo la barca portiamolo ok spero che non ci saranno problemi spero che questa farm funzionerà intanto portiamo questo tizio di qui ecco vedete tramite i slab possono fortunatamente salire quindi li potete spingere tranquillamente prendiamo il blocco di white stained glass e stiamo a posto ok perfetto possiamo togliere queste slab che stanno qui da questo lato c'è un 2x2 di acqua infinita quindi me la sono messa già per per poter fare la zona appunto dell'acqua no perché qui ci sarà l'acqua possiamo eliminare credo il portale sì perché qua sopra appunto come vi dicevo ci sarà l'acqua qui lasceranno i golem che saranno poi portati al centro il centro dovrebbe essere da una parte del genere va beh non è un problema cercare adesso il centro perché ce lo darà stesso l'acqua lascerà un 3x3 e noi elimineremo quello appunto per poi creare questo tunnel dove cadranno i golem perfetto ci vuole un po' di tempo per togliere sta roba però non è un problema perché abbiamo efficiency 5 adesso mi servirebbe un attimo una serie di blocchi di legno vediamo se ce l'abbiamo sì ce l'abbiamo perfetto perché dobbiamo fare una cosa del genere tipo così ah già è nato un tizio qui perfetto allora funziona la farm ottimo vabbè ragazzi sapete che cosa vi dico faccio la stessa situazione che sta qui sotto in basso e poi vediamo se effettivamente funziona questa farm faremo un sistema di raccolta adesso questo lo devo uccidere perché altrimenti ci può dar fastidio incominciamo ad avere già il primo ferro perfetto no è caduto giù mannaggia chissà se è ancora vivo oddio sta lottando con uno scheletro vabbè 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 ci vediamo tra pochissimo dai muori muori grande signori la farm è completa tutto ok funzionante perfetto sono contentissimo perché ho avuto dei problemi alla farm stessa non funzionava poi vi spiego meglio perché voglio farvi vedere una cosa che ho fatto tra una clip e l'altra e niente ho costruito l'interno di questa struttura giusto per non tenervi a secco dato che comunque questa serie è incentrata alla fine sulle costruzioni quindi non mi piace fare un intero episodio solamente dedicato ad una farm che comunque è una costruzione però è una farm non è una cosa esteticamente bella comunque questo edificio niente l'ho fatto come faccio di solito quindi metto un camino perché sono molto belli i cammini dai ci stanno e quindi è una sorta di zona cottura delineata diciamo da questa linea di pietra qua sotto ah qui ho sbagliato a mettere i blocchi mo che sto notando mmm fammi prendere un attimo i blocchi di pietra va togli questo e metti questo perfetto mettiamo questo qui dentro e non perdiamo altro tempo niente dicevo zona cottura zona dove si mangia come vedete sia il tavolo che questo sono pari poi niente un pot qui a terra con una pianta all'interno giusto per dare un po' di colore poi una cesta qui dietro con nulla all'interno dei calderoni qui poi qui si sale al piano di sopra dove di solito costruisco sempre le camere da letto no? le zone dove si dorme perché certo non si fa una cucina a un piano superiore non lo so almeno io non le ho mai viste quindi niente ho messo due letti per dare non lo so l'idea che qui ci sono due persone ci abitano due persone questa è la parte del camino che è interno un tavolo qui un pochino più particolare rispetto al tavolo che faccio di solito nelle cucine dove si possono appunto appoggiare le cose sopra quindi ho messo un pot per dare un po' l'idea che questo sia un bicchiere poi niente un altro pot qui a terra con una pianta delle librerie perché le librerie ci stanno sempre anche se questa comunque è una zona portuale quindi non lo so se ci entrano molto però non fa niente non fa niente delle ceste che si possono aprire tra l'altro perché queste sono scale anche se non serve a nulla però vabbè ottimo così e poi niente dei note block qui sotto che servono tipo da scatoli oppure mobili non lo so torniamo comunque alla farm perché voglio spiegarvi che cosa ho fatto come ho fatto a farla funzionare perché dato che io comunque uso la Optifine ragazzi la Optifine dovete sapere che blocca alcune cose proprio a livello di funzioni e quindi niente grazie all'aiuto di Suriv che mi ha diciamo delucidato riguardo la funzione di questa farm ho scoperto che appunto la Optifine ha dei problemi riesco a salire qua sopra maledettissima farm io che costruisco queste cose che non riesco nemmeno a gestire mi fai salire ecco questa diciamo che è la zona di atterraggio che non è molto carina devo essere sincero ah ecco fatto ho preso una bella capocciata però ce l'abbiamo fatta poi devo comunque studiare meglio questa zona di atterraggio perché è veramente veramente bruttissima e scomodissima comunque dicevo nella Optifine ci sono delle cose che bisogna settare per far funzionare bene diciamo lo spawn chunk perché se non fate questo non funziona appunto quindi dovete andare in performance mettere tutto in off effettivamente poi non so se questo anche si deve mettere in off però la farm ha cominciato a funzionare quando ho messo in off questa parte di destra quindi se volete fare anche voi una farm di ferro nel chunk di spawn dovete mettere tutto in off qui come vedete la farm già sta producendo molto sembra che ha prodotto molto in poco tempo però ha prodotto tutto questo in tantissimo tempo quindi io non sono soddisfatto di questa cosa sapete che cosa ho fatto? non penso di finirla entro questo episodio ho costruito un'altra struttura a 70 blocchi di distanza precisamente quindi potete benissimo farla se vi interessa fortunatamente non siamo ai livelli altissimi quindi siamo tipo a 213 il massimo dovrebbe essere proprio 256 se non erro quindi meno male e niente l'ho voluta fare solo per un fatto di produzione niente di eccezionale devo portare i villagers eccetera eccetera ma ci penserò tra un episodio e l'altro perché è un casino veramente veramente un casino però non ci vuole niente per fare alla fine questa costruzione magari vi dico anche le dimensioni tipo questa parte interna da costruire quindi questo quadrato interno dovrebbe essere 19x19 blocchi la parte di 21 blocchi ovvero questa dove ci sono questi blocchi esterni è fatta in questo modo quindi si esce fuori di un blocco e si sale diciamo così vabbè ma poi vedrete tranquillamente il video che vi metto in descrizione se avete intenzione di fare questa farm e niente quindi voglio fare un'altra farm voglio fare un'altra farm in modo che i golem sponeranno qui cadranno qui giù e finiranno appunto in quest'altra farm dove come potete vedere già sta morendo un golem quindi perfetto così ah vi devo spiegare pure come funziona qui la zona di uccisioni del golem perché non ve l'ho fatta vedere come vedete ci sono una marea di cartelli dato che la zona è di 3x3 ho messo dei cartelli centrali per ogni lato ok poi un cartello qui sotto con un altro cartello sopra e poi il blocco diciamo di lava in modo che rimane così fermo come vedete perché non si allarga dato che ci sono i cartelli se non riuscite a piazzare questo blocco di lava sopra il cartello vi basta semplicemente mettere un blocco qualsiasi mettere il blocco di lava rompere il blocco sotto e piazzare poi il cartello facendo in questo modo tranquillamente il blocco di lava resta svolazzante e non ci dà problemi non si allarga da nessuna parte rimane tutto fermo così sono contento del fatto che posso benissimo stare da un'altra parte a costruire a fare altre cose perché tanto allo spawn chunk carica sempre la farm di ferro non ci sono problemi di questo tipo per il resto ragazzi penso che mi fermo qui altrimenti verrà troppo lungo questo video eccetera eccetera vabbè già sapete magari finisco la seconda farm là in alto tra un episodio e l'altro appunto in modo che avrò tanto tanto ferro così da avere anche altri calderoni che sono sempre una cosa estetica molto molto carina vi ricordo sempre di attivare la campanellina in modo che sapete quando esce un episodio seguitemi su telegram ragazzi perché lì metto un sacco di immagini un sacco di cose carine prima dell'episodio quindi se volete sapere che fine ha fatto un news tranquillamente seguitemi su telegram perché lì vi aggiorno su tutto quindi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti